ok adesso partiamo sono arrivato nel punto più alto e raggiungibile con sentieri siamo a metà strada più o meno tra Suoz e Madulain e ora scendiamo verso Madulain una bella giornata quindi speriamo che non ci sia troppa gente sul sentiero e vanno bisogna stare belli centrali perché è bella battuta e bella dura altrimenti si rischia di sprofondare parte un po' in piano è però meraviglia questi sentieri così nei boschi ma sare anche un zik ecco a raggiù di là sì raggiù di là ma che ero andato di là ma ho sbagliato ecco ecco c'è già qualcuno che scade grazie tornante sul ghiaccio che parte rilancione tornante sul ghiaccio tieni, 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 tieni wow partita davanti se non sono andato giù lì miracolo è perso un po' di velocità prossima volta metto su le ginocchiere camasenta più se più sono tutte quelle furbe lì comunque se vai giù non sono andato guardami guardami wow che ghiaccio e poi torniamo in su e scendiamo giù dall'altra parte dove sono salito guarda il piedone questa è qua l'ombra guardami 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 è qua che si accederà la rupa di qui ce l'arrivo di qui ce l'arrivo di qui ce l'arrivo di qui ce l'arrivo